Buonasera, sono Anna Lesina, Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena. Anche quest'anno con grande piacere e coinvolgimento siamo presenti all'interno della settimana della bioarchitettura e portiamo con orgoglio dei nostri contributi. Il tema di oggi è un tema che c'è particolarmente caro, che è quello legato alla rigenerazione, un tema che stiamo portando avanti anche a scala nazionale, all'interno di tavoli di lavoro da parte delle singole regioni, dei singoli ordini provinciali, fino a conferire il nostro contributo a quello che è il tavolo nazionale. Il tavolo nazionale è il punto di transito per le istanze a scala ministeriale che rappresentano il nostro obiettivo, il nostro traguardo di scambio e di confronto. Da anni collaboriamo con l'organizzazione e l'ordine è rappresentato dalla collega che ho qui a fianco, che è consigliere responsabile delegata proprio all'interno del comitato tecnico che si riunisce tutto l'anno proprio per organizzare, per pervenire all'esplettamento di questa settimana. Quindi io darei con piacere la parola a lei che nel dettaglio ci racconterà un po' come è avvenuto il percorso che ha portato alla realizzazione di questa settimana. Grazie. Buonasera, sono Sandra Losi, consigliere ordine architetti della provincia di Modena e da diversi anni faccio parte del comitato organizzatore di questo evento, comitato che è composto oltre da me anche dall'architetto Fausto Barbolini e dall'architetto Grazia Nicolosi, anche se come partecipazione su rappresentanza di ACER. Insieme contribuiamo a proporre quelli che sono eventi o comunque anche buone pratiche che vengono messe in campo sia vicino a noi che lontano a noi. In particolare quest'anno siamo presenti con un'iniziativa, con un progetto, con un finanziamento europeo chiamato Mildome, portato avanti dal comune di Castelnuovo Rangone. In sala sono esposte le tavole dei progetti che sono stati qualificati e sia il comune di Castelnuovo Rangone sia noi ci teniamo a far vedere che anche vicino a noi ci sono buone pratiche ma soprattutto anche colleghi architetti che sono capaci di affrontare queste tematiche che devo dire sono ancora un po' eluse dalla maggior parte anche dei colleghi perché sono ritenuti obiettivi ancora tipo le case consumo zero, 20-20-20 e così sono termini che rimangono ancora un po' vaghi e quindi anche tutti gli eventi formativi legati a queste tematiche vengono ancora lasciati vuoti. Sarebbe opportuno invece cominciare ad avvicinarsi a questi progetti perché poi quando ci sarà l'obbligo di avere edifici con determinate caratteristiche determinate prestazioni energetiche probabilmente non saremo non solo pronti noi come tecnici ma anche la committenza stessa non sarà in grado di accogliere queste nuove proposte e di viverle al meglio.